Siamo con Mr. Antognoli al termine della partita tra Imolese e Forlì, 1-1, un primo commento a caldo? Secondo me è stata una bella partita contro una squadra tosta come l'Imolese, a cui faccio i complimenti. E' chiaro che c'è un po' di rammarico perché siamo passati in vantaggio, secondo me potevamo sfruttare meglio diverse occasioni che abbiamo avuto per chiudere la partita e credo che forse i punti avremmo meritato qualcosa in più noi. Però accettiamo comunque il pareggio e la squadra è viva, la squadra ha fatto bene e sono contento per lo spirito che ha messo i ragazzi. Un po' più di qualità nell'ultimo passaggio e sicuramente avremmo portato a casa la partita. E' comunque un proseguio di un momento che si conferma positivo, oltre al fatto che Merlonghi continua a segnare con una certa continuità, segnali molto positivi? No, molto positivi perché oltre al risultato c'è la prestazione, quella che interessa a me, perché comunque i ragazzi nel momento in cui c'è stato anche da lottare hanno lottato, ripeto, contro una squadra fisica che ha molta gamba, molta corsa e non è facile da affrontare. Quindi veramente sono soddisfatto per la prestazione, un po' di rammarico per non aver portato a casa i tre punti, però ripeto, lo accettiamo. Nel finale qualche piccolo rischio, diciamo, anche dovuto forse a una stanchezza che arrivava, bisogna anche ammetterlo in quelle stesse situazioni, comunque bravi a tenere il pareggio quando magari non è stata fortunata nella vittoria. Hai detto benissimo perché alla fine abbiamo pure rischiato, quindi queste sono le classiche partite che non riesce a chiuderlo, magari ha il predominio territoriale come nel secondo tempo l'abbiamo avuto, le abbiamo messi anche nella loro metà campo, però poi non riesce a fare gol e alla fine rischi in qualche ripartenza di poter subire. Invece i ragazzi sono tutti bravi a stringere i denti anche nel momento di difficoltà e quindi sono soddisfatto. Un'ultima cosa, tra tre giorni di fatto si torna in campo, domani mattina subito un allenamento, poi una preparazione velocissima di nuovo per un infrasettimanale. Tra le altre cose contro la stessa squadra, quindi ne avrei fatto volentieri a meno di giocare a meno contro la stessa squadra, magari con una squadra diversa. chiaramente userò la Coppa anche per far dare un po' di minutaggio a chi ha giocato meno in questo momento, che comunque si sta allenando bene, meriterebbero anche loro di giocare, quindi spazio in questo momento a chi ha giocato meno e pronti perché fra tre giorni si gioca. Grazie mister. Grazie.